Musica Bella a tutti ragazzi, oggi siamo nel primissimo video di Clash of Clans Ragazzi come vedete questo qui è il mio villaggio Uno scarso TH8 perché sono appena passato a TH8 Infatti ho ancora i depositi scarsi, le difese scarse quindi sono ancora a niente Oggi andremo a fare un attacco con giganti, ora ve lo faccio vedere Con un arciere giusto così 15 giganti, 4 spaccamuro, 17 maghi, 2 curatrici qua Un drago, poi abbiamo 2 curatrici La porzione là quella lì che è Una furia, una veleno e un re barbo a livello 5 Come vedete ho il clan, il mio clan praticamente l'ho creato Quindi se volete entrare è aperto a tutti Sono solamente io mi sembra giusto Niente andiamo subito ad attaccare, faremo solamente un attacco Poi se volete più di un attacco basta e me lo dite e io lo faccio Non è quello il problema, oddio questo qua quanto l'isir c'ha Questo si attacca, questo si Farò un fail della madonna eh perché non so giocare io Però questo qua lo voglio attaccare Intanto vediamo se ha truppe nel castello No, perfetto, non ha niente nel castello Quindi Ora Facciamo così Facciamo Caliamo Intanto 2 spaccamuro così almeno Cioè Perfetto Perfetto dai partiamo così Cazzo mene Via 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 2 qui Daglie così Maghi qua pulire 2 spaccamuro Boom boom Dai 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 fate breccia Fate breccia Re barbaro qui Mi tolgo una cuffia se no poi non capisco una merita minchia Che c'è un casino della madonna Allora 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 No no i giganti si sono separati I giganti si sono separati Ok Il re barbaro sta morendo quindi mettiamo qua La furia Perfetto Una super furia qui Per far Infuriare malissimo i giganti Perfetto così Bravissimi bravissimi Una bella cura qui Per i miei giganti Che non si sa mai Perfetto 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 Dai dai che è andato benissimo questo attacco eh Secondo me è andato molto molto bene questo attacco Abbiamo stravinto contro questo Che è un TH7 eh Però io sono un TH8 scarso Quindi è come se sono un TH7 Più o meno Quindi dai Buonissimo Abbiamo fatto i piazze pulite Mancano solamente le casette qui Ma non è un problema Anche perché abbiamo un minuto e trentuno Quindi Ci siamo risparmiati anche Una Bella Beleno E anche una bella Cura Mi sembra giusto Quindi dai Qua fanno tutto Sono un coglione Sono una grande testa di cazzo No vabbè raga Ma veramente Bello No mi sono risparmiato anche una veleno E una cura Cosa faccio come un grande coglione Clicco con il tasto a sinistra del mouse E la butto Va bene Eh purtroppo è una baggine Mi porta via Non ci posso fare niente Uh abbiamo preso anche il bottino Buono così Quindi vai così Facciamo tesoria Quindi un milione e trecento Ora ci potenziamo La tesla occulta Che non posso mai nella vita Perché È così Però posso il cannone Il cannone Voglio Il cannone lo voglio potenziare Quindi vai così Il cannone Ce lo siamo potenziati Io vi ringrazio di aver visto il video Vino a qui Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Un commento Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E la posta E ciao Al prossimo episodio